ed eccoci qua buonasera da frank amici miei come sempre vi invito ad iscrivervi al canale lasciare un like e attivare la campanellina per rimanere aggiornati per i prossimi video sappiamo questo è successo no? testate giornalistiche non tutte però giornali social è uscita la notizia di quello che è successo tra i capi ultrano di inter e mina e dal 2019 2020 comunque quello che è successo stanno vedendo cosa sta succedendo o cosa è successo in quelle curve ma a prescindere che non è opportuno che il procuratore capo di milano vada sempre allo stadio accanto al presidente dell'inter come non è opportuno secondo me che negli uffici si mostrino tutti gagliardetti maglie tuttora della propria squadra del cuore perché purtroppo come è successo da altre parti esiste l'odio tifoso perciò questo purtroppo anche inconsciamente esiste senza mettere in dubbio la professionalità la capacità la bravura dei professionisti però annebbia un po' il tifo come per esempio non è giusto presentarsi una conferenza di questa portata perché sono elementi importanti o quello che stanno uscendo no le probabilità garantisti sono i processi sono le indagini tutto quello che volete presentarsi con la cover dell'inter mentre stai facendo una conferenza stampa e lo fa vedere tranquillamente questo perché in questo paese tutto tutto è concesso e non a tutti detto questo detto questo a me non interessa quello che succederà nel senso che però qua abbiamo ancora una volta capito i due pesi e due misure facciamo conto ricordatevi il procuratore figici pecoraro che aveva detto che agnella è stata intercettata una telefonata con un signore dell'andrangheta poi rivelatosi falsa ed è rimasto lì ricordiamoci che andre agnelli è quello che ha lottato e ha fatto la lotta per debellare quello che c'era nella curva poi non la può pensare come vuole ma intanto ha detto quello che era è successo quello che è successo e a posto così ancora una volta è arrivato prima però ed è stato scagliato anche dai nostri stessi tifosi no veniva vituperato questo presidente oggi poi scopriamo è la juve parte lesa perché la juve è parte civile nel processo no perché la juve ha denunciato qualcosa che non era quadro qualcosa che non era giusto nella curva perciò ha sentito il dovere di intervenire e l'ha fatto oggi a prescindere che non non funziona più così perché oggi abbiamo sentito sempre il procuratore capo che i club sono parecchio danneggiati cioè in poche parole almeno per le intercettazioni che hanno mostrato giornali testate giornalistiche tutti sapevano perciò non dovevano denunciare cioè in questo caso non dovevano denunciare ma sono comunque state danneggiate pensate un po come sono fatte come sono fatte le bilance no in questo paese e in più vediamo se andate a vedere le testate giornalistiche per a partire da quel giornale rosa a partire dai giornalisti come biasin no come i piccoletti parlo proprio piccoletti di statura non parlo avessero almeno l'intelletto di una di una elevata di elevata statura beh uno dice non importa che non sono nemmeno altissimi perciò quel genere no di peracottari che stanno in giro intasando il web o quelli che menano donne diciamo così no non parlano non stanno parlando non stanno facendo tweet non stanno facendo dichiarazioni e andate a vedere riportate andate sul web cosa hanno combinato per quando è successa la storia di agnelli con la curva juve dando quasi la responsabilità di agnelli e avvicinando agnelli a determinate famiglie questo è il problema in italia non quello che succederà perché quello che non succederà noi ci dobbiamo come si dice persone per bene ci dobbiamo sempre augurare che lo stadio sia posto per tutti che non ci siano comandi ci dobbiamo augurare questo che venga fatta pulizia per il bene delle persone a prescindere dalla squadra che si tifo invece no ora cosa scopriamo che addirittura i danneggiati sono quelli che sapevano perché quando chiamavano per avere 600 biglietti in più non potevano alzare bandiera bianca e denunciare o andare in procura andare in questura fare una denuncia no a no non si può non è la persona civica non è la persona da persona non omertosa no io resto basito da quello che sto leggendo ripeto io non me ne intendo non me ne intendo di procura non me ne intendo di nulla ma lo schifo che stiamo vedendo oggi dal punto di vista mediatico fa veramente schifo fa veramente schifo perché non si vuol dire e come mai non si vuol dire sempre quando succede in alcune piazze in alcune zone con alcune squadre con alcuni personaggi sempre a comando perché non si vuol dire questo forse lo sapremo fra 10 15 20 anni perché poi col tempo sempre qualcosa potrebbe sempre uscire però ripeto a me questa cosa qua di di non leggere oggi la gazzetta dello sport sembra quattro ruote auto scout gazzetta sembrerebbe non ho scritto nulla anzi non ho scritto un mezzo articolo perché si sono visti tempestati di tag per quello che non fanno il loro lavoro no di riportare notizie poi è la gente che si fa un'opinione se scrivi le cose giuste per bene trasparenti ma sappiamo che di là di trasparenza non ce n'è perché lì cairo è un odiatore della juve perciò pensate un po come potremmo noi pensare che facesse qualcosa di buono io non la leggo però ti passano in tl chi te lo manda sul telefono e vedi delle cose sconcertanti biasine sparito biasine con lui che faceva un tweet ogni tre minuti contro la juve biasine è colui che ha fatto un tweet quando dell'aurentis si è visto e si è fatto una foto con gli ultra del napoli una foto subito ha dichiarato vedete dell'aurentis fa la foto con i capi ultra avete capito quando il mister della squadra che tifa ha direttamente hanno direttamente lo hanno direttamente chiamato come hanno chiamato materazzi quello dello smoking bianco ricordiamo smoking bianco materazzi che più passano gli anni e più si colora sempre più di marrone questo è poco ma sicuro zanetti vicepresidente persona onesta sana sincera e così via vicepresidente addirittura vicepresidente comunque detto questo a me fa totalmente schifo la mediaticità e i due pesi e due misure che si danno sempre sulla narrazione e ricordo ancora una volta che la juve e il suo presidente agnelli è parte l'esa perché hanno denunciato le malfatte o le nefandezze o qualsiasi cosa succedeva e succede e succede magari in curva con telecamere che ti prendono dappertutto comunque parte l'esa e comunque è stato quasi denominato in altre maniere il presidente agnelli lui lui ha denunciato questi sapevano e non sono danneggiati perché se sai devi agire e se hai paura è un problema tuo ma se sai devi devi dirlo a meno che oggi i giornali non dicono milan e inter hanno evitato di raccontare cosa stava succedendo invece non hanno raccontato un bel nulla parlo da persone parlo per persone comuni mortali come noi parlo a persone per bene come noi e non sto parlando di tifo perché io devo andare allo stadio tranquillo sapendo che quella birra la pago un euro perché costa un euro o quella bottiglietta d'acqua un euro perché costa un euro non tre euro perché qualcuno ci fa altro questo è e dello stadio deve ritornare deve tornare ad essere delle famiglie delle famiglie significa delle persone per bene punto non zona franca per alcuni ciao